Buonasera a tutti, siamo giunti all'ultima settimana del nostro contest intanto ci tengo a ringraziare tutti perché questa iniziativa ha risposto un grande successo e quindi mi fa molto piacere che sia piaciuta così tanto allora, ricordiamo quest'ultima settimana il premio qual è? è una giornata in piscina per due persone, gratuita con ombrellone e due lettini e sotto l'ombrellone troverete una tagliata di frutta fresca di stagione con dell'acqua naturale qui abbiamo i nomi, gli ultimi nomi ci tengo a precisare una cosa, che dato questo tempo negativo non vi preoccupate perché ci sarà la possibilità di andare fino a settembre quindi non c'è alcun problema, diciamo, climatico di tempo allora, mi fio i nomi vado a destrate Antonio Tavano benissimo si conclude questo contest si è concluso anche il cambiato di Serie A noi lo abbiamo fatto per l'ultimo quattro giorni del cambiato di Serie A vi ringrazio a tutti e alla prossima stagione grazie grazie Grazie.